Cambio al vertice della stazione dei Carabinieri di Fano. Il luogotenente Antonino Barrasso, il nuovo comandante, allo stesso tempo sarà il vice della compagnia. Barrasso proviene da Marotta, dove ha retto il comandato della stazione per 22 anni, originario della provincia di Foggia, è sposato e ha due figli. Arruolato nell'arma dei Carabinieri nel 1981, ha prestato servizio in Sardegna a Doglianova, Donori, Burcei, Villa Santo e Bitti. Nell'88, giunto nelle Marche, ha assunto il comando della stazione Carabinieri di Macerata Feltria, dove ha prestato servizio fino al 1993, quando è stato trasferito a Marotta. Durante la lunga e brillante carriera ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti, quattro encomi per importanti operazioni di servizio, nominato Cavaliere della Repubblica Italiana. Nel 2004 è stato premiato dal comandante generale dell'arma dei Carabinieri, quale comandante di stazione che si è particolarmente distinto in servizio. Privilegio quest'ultimo riservato esclusivamente ai marescialli che hanno dato lustro al corpo, spendendo una vita in ruoli di comando e ottenendo lusinghieri risultati operativi, nonché il plauso e la stima delle autorità e soprattutto della popolazione. Antonio Barrasso prende il posto del luogotenente Gabriele Bove, chiamato a ricoprire un importante incarico di Stato Maggiore al comando Legione Carabinieri di Ancona.